Sindaco, allora Parco Città, futuro incerto, nel senso che non si sa ancora come andrà il Comune, però si riprenderà la gestione perché è in scadenza il comodato d'uso per l'ATS che lo ha gestito per 5 anni. Che intenzioni ha? Parco Città innanzitutto è della città e non è di una suggestione che io ritengo anche in maniera discutibile, io non ho voluto evidenziare questo problema perché ho detto va bene, l'importante è che si facciano le attività, ma io penso che anche la modalità di assegnazione abbia delle lacune in termini di legittimità dell'atto.